Cari amici di Cultura e Culture, io voglio ringraziare tutti gli iscritti al blog, voglio ringraziare i visitatori che sono veramente tanti ogni giorno e voglio ringraziare gli iscritti al canale YouTube, ma soprattutto dico un grazie particolare ai miei fan o meglio ai fan del blog su Facebook. La pagina Facebook di Cultura e Culture che su Facebook si chiama Cultura e Culture di un mondo in movimento ha raggiunto più di 3000 fan e sono sicura che cresceranno sempre di più, perché ogni giorno ci sono centinaia di persone che si iscrivono e che diventano, come si dice in gergo facebookiano, fan del mio blog. Io non so come ringraziarvi, un grazie di cuore, vi invito per chi non lo avesse ancora fatto a visitare il mio blog, il mio umile blog dove ci sono soltanto i miei pensieri, i pensieri di una giornalista che scrive di cultura, di libri soprattutto, di attualità, di giornalismo ogni tanto e di cinema, un blog che guarda al mondo o meglio cerca di guardare al mondo. Mi scuso se non sempre ci riesco, mi scuso con i fan stranieri, con i visitatori stranieri che mi stanno chiedendo di tradurre questi video in inglese, di tradurre i post in inglese, il traduttore di Google ahimè purtroppo non è eccellente, anzi lascia molto a desiderare e io mi scuso per questo. Vi ringrazio e cercherò comunque di rimediare per quanto riguarda l'inglese. Grazie, grazie di cuore, grazie ai visitatori della Spagna, grazie ai visitatori di Milano, siete veramente tanti, grazie ai romani soprattutto perché veramente mi seguono con costanza, grazie ai visitatori del Messico, dell'Argentina, del Venezuela, a tutti coloro che mi seguono dal mondo e ai nostri emigranti in Italia, all'estero, ai nostri emigranti italiani che risiedono all'estero. Grazie, grazie mille. Un bacio, alla prossima e seguitemi su YouTube, seguitemi sul blog, lì troverete molti video. Grazie e anche, oh scusate, anche dei podcast, arrivederci!